ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiego dove trovare questo lotto dragonico prassitusa ecco ovviamente per quelli che sanno che bisogna ammazzare Morgoth il presagio e sbloccare questa terra dei giganti ho fatto una guida su come trovare la fiume di sangue che ti porterà proprio in questo punto esatto trovi la fiume di sangue e poi prosegui da questa parte verso il gigante di fuoco e ammazzarlo il video è questo vi porterà fino a qua trovate la fiume di sangue e se volete vabbè se la volete la prendete questo è il punto dove andare a uccidere il gigante di fuoco quindi proseguite da questa parte perché una volta ammazzato bisogna parlare con Milenia la ragazza che incontriamo al punto di grazia parliamo con lei e lei ci porterà in quella bella isola dei draghi bestie che ti fanno one shot veramente delle vere bestie che ti ammazzano subito quindi quello è il grande calderone tocchiamo il punto di grazia così tanto per perdere un po' di tempo proseguiamo da questa parte fino a quella lunga catena e salire sul calderone poi ci sarà un punto di grazia ci sediamo e parliamo con Milenia ci farà vedere un bellissimo filmato di lei che brucerà così l'albero e ci porterà lì io avevo già fatto tutto quindi io vado direttamente in lingua e l'isola sponso direttamente lì al punto di grazia sembra qui il punto ok e andiamo lì ok una volta arrivati buttiamoci giù qui per le scale scendiamo e proseguiamo da questa parte quindi guardate il video fino alla fine per capire dove trovare questo drago lord draconico che ha un nome impronunciabile avevo già fatto una guida tanto tempo fa però non è che ho fatto vedere tutto il tragitto come fare come arrivarci e sono andato direttamente lì mi sono sdraiato la terra e mi ha portato in quella in quella tana cioè in quel posto dove ammazzare il lord draconico qui 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.